Dopo quella con il Catania, la Cavese si prepara a disputare un'altra partita in un clima di grande attesa. A Bisceglie, allo stadio Gustavo Ventura, alle ore 18.30 di domenica 5 maggio, ci si attende un match apertissimo tra due squadre motivate nell'ultima giornata del campionato di Serie C. I Metelliani, in undicesima posizione, a parità di punti con il Rende, per dare seguito al sogno playoff avrebbero bisogno di vincere, per raggiungere la quota dei 50 punti. Anche un pari potrebbe star bene alla formazione di Modica, qualora su altri campi si verificassero altri risultati favorevoli. Il Bisceglie di Rodolfo Vanoli, invece, vuole provare a vincere e spererà in un KO della Paganese in casa con la Viterbese Castrense. Tutto ciò permetterebbe ai pugliesi di accedere subito allo spareggio intergirone con una formazione del Girone A e quindi prolungare la propria lotta per il mantenimento della Serie C, avendo però saltato la gara con la penultima del proprio raggruppamento, perché in questo caso specifico la Paganese dovrebbe retrocedere, avendo nove punti meno del Bisceglie stesso. La Cavese ha ripreso ad allenarsi ieri al Simonetta Lamberti e comunque a Bisceglie non sarà sola, dato che già da ieri la tifoseria si sta organizzando per seguire in gran numero la squadra e sostenerla in riva al mare Adriatico. Ieri in piazza Vittorio Emanuele III, a Cava, in molti si sono infatti radunati per discutere proprio l'organizzazione della trasferta. Altre DC, Piero Camilli, presidente della Viterbese Castrense, non smentisce la sua nomea di mangia allenatori. A causa delle ultime sconfitte della squadra e di alcune divergenze con il tecnico Nicola Antonio Calabro, lo ha infatti esonerato, chiamando Pino Rigoli, fermo da circa un anno e mezzo. L'allenatore siciliano di Racuia subentra a sole due partite dalla fine del campionato regolare e sarà il quarto allenatore stagionale per i laziali dopo Giovanni Lopez, Stefano Sottili e appunto Calabro. Oggi era prevista una gara di recupero per la Viterbese stessa a Catanzaro e per questa gara molti titolari potrebbero essere lasciati a riposo per via degli impegni ravvicinati.